Bentornati su MyFootballJersey. Me l'avete richiesta? Questa è la terza maglia del Bayern Monaco per la stagione in corso in edizione FAN. La stagione della stagione è la stagione della stagione della stagione. La maglia è molto elegante, mi piace molto questo tema floreale, primaverile lo definirei, e il nuovo simbolo del club, questo simbolo del club. Qui in alto vedete il costo, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete saperne di più andate qua sotto in descrizione dove troverete tutti i riferimenti. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale, prima però come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi tutti i giorni nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao!